Camas Lamipel, un connubio perfetto di due società che sul nostro territorio sono leader nei loro settori. Camas Lamipel per una squadra, i lupi, che da anni, dal 60, è il sigillo di quello che è lo sport santo-rocese. I lupi sono nella storia di noi giovani, da quando noi eravamo giovani, eravamo grandi ricordi, ricordi di un passato degli anni 60, in cui c'era un'evoluzione sia nel settore conciario, che in realtà per i ragazzi giovani di sponsorizzare l'Ulipel attraverso Gincane, quindi la partecipazione di una gioventù che in quei tempi aveva poco a disposizione. La Lamipel, sicuramente la Camas, augura alla squadra dei lupi, quindi alla squadra, ai giovani, a tutto quello che è i dirigenti, i tecnici e tutto quello che viene dietro a questa squadra, un buon campionario. Quello che io aspico non è tanto per la mia società, che si ritiene felice di portare avanti la Camas Lampel, ma auguro che tutti i giovani di Santa Croce e di tutta questa zona possano seguire la palla a volo e seguire questa squadra che per me ritengo sia l'eccellenza nel nostro comprensorio. e quindi la possibilità di avere un pubblico pieno di giovani, ma anche pieno di persone che hanno amato i lupi e che ameranno i lupi fino a che vivano. Quindi auguri in bocca al lupo per la due.